Bandieri a mezz'asta all'Università d'Annunzio per l'improvvisa scomparsa di Franco Cucurullo. Positivo al Covid, l'ex rettore era ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, dove è deceduto la scorsa notte all'età dei 78 anni. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia a Bologna, conseguita nel 1967, nel 1980 Franco Cucurullo si trasferisce a Chieti come professore incaricato di patologia medica presso l'Università d'Annunzio. Professore associato dal 1982 e ordinario di medicina interna dal 1986, presiede la Facoltà di Medicina e Chirurgia per un decennio, dal 1987 al 1997, anno in cui inizia il primo mandato come rettore dell'Università d'Annunzio, alla cui guida rimarrà fino al 2012. Tra gli incarichi più importanti rivestiti da Cucurullo, quello di membro della Commissione Unica per il Farmaco presso il Ministero della Sanità dal 1993 al 1997 e quello di presidente della seconda sezione del Consiglio Superiore di Sanità dal 1997 al 2004. Nel triennio 2006-2009 è presidente del Consiglio Superiore di Sanità, mentre per il Ministero dell'Università nel 1999 ricopre il ruolo di membro del Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca e nel 2001 presidente del Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca. Nel 2003 la nomina presidente della Fondazione Università Gabriele D'Annunzio. Sargio Caputi, rettore in carica della D'Annunzio, lo ricorda così. Per me è estremamente triste perché io sono stato un suo studente, è stato il mio relatore di tesi di laurea, quindi per me è veramente triste parlare e vivere questo momento. Sicuramente il professor Cucurullo è stato uno degli artefici più importanti della nostra Università, ha portato la nostra Università a livelli culturali sicuramente importanti, ha fatto un'opera di costruzione della cultura per la nostra Università davvero molto molto importante. Basta ricordare l'ideazione del Cesi, del Centro di Eccellenza dell'Invecchiamento. Lui è stato presidente del Consiglio Superiore di Sanità per tanto tempo. Io mi ricordo ancora quando ero studente, lui è arrivato da Bologna, è stato prima docente, poi è diventato preside della Facoltà di Medicina, poi prorettore e infine per 15 anni rettore. In quei 15 anni devo dire che ha compiuto un'opera sicuramente molto molto positiva per la nostra Università. Franco Cucurullo lascia la moglie Serena e le figlie Silvia e Chiara. I funerali saranno celebrati in forma privata.